E' stato interessante come i ragazzi si ricordavano di qualche esperienza sua a riguardo agli animali che sono comuni nel loro paese. Ho visto come le conchiglie vengono studiate e conservate e mi è sembrato un po' strano perché al mio paese sono molto comuni. Alla fine della mostra ho letto nelle stanze ai rettili un particolare che diceva che i rettili fanno delle uove di genere diverso dipendendo dalla temperatura dell'ambiente e che questa poteva essere una delle cause dell'estinzione dei dinosauri. Ho visto anche una vetrina nel cui c'era una collezione molto ordinata di conchiglie dove ognuna era molto diversa dall'altra ma che nel loro insieme erano molto belle. Abbiamo conosciuto un signore che spellava gli animali per poi mettere dentro il calco e metterlo in esposizione. Lo chiamano tassitermia. L'ultima volta che ci sono andato al museo, io, Andrea, Sayet e altri due ragazzi siamo andati a vedere il condor, uno degli uccelli più grandi che esistono ancora, insieme all'albatro. Il condor è uno dei simboli del mio paese e si trova nelle Ande. Un giorno vorrei vederti dal vivo prima che si stinguano. Tutto questo mi ha ispirato nella grafica Griot dove abbiamo aggiunto anche delle esperienze di altri ragazzi, sempre riguardo al museo.